Musica Papà, papà, devo subito farti vedere una cosa Oh, ma tesoro, adesso non sono al telefono dopo, eh? Ma al telefono? Ah, di nuovo al mio momento per ascoltare, con chi telefona? Ma se sì, allora deve muoversi, perché io sto per uscire, mi voglio anche Cosa? Manco la mamma da qualche parte? Oh no Ok, bene, ha funzionato, perfetto, non ho detto ancora bambini che oggi viene una babysitter Oh no, una babysitter, di nuovo con un'agenzia e poi arriverà una donna bruttissima Eh ma tesoro, cosa c'è? Ah, niente di importante, è intassata il bagno, sì sì, devo accompagnarmi Eh, cosa? Il bagno è intappato? No, sono io, vero? Oh no, ora devo occuparmi anche di quello Oh, ma dove sei? Non ti vedo ancora Ah, sì, Julian, sto entrando Ah, assolutamente assurdo che non c'è una pizzeria Ah, sì, è quello che mi hai raccontato Cosa? Non ci posso credere Sì, incredibile, vero? Julian e io stiamo giocando insieme con i videogames Oh, Emma, tra un po' giocherò anche con te Ah, sì, sì Ah, ah, ma, ok, Emma, penso che il problema sia che sta arrivando la babysitter Ma papà va via Cosa? Oh no, non è possibile, no No, 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 ragazzi, dobbiamo assolutamente fare qualcosa Non voglio la babysitter pazza in casa Oh, oh, oh Sì, sono assolutamente d'accordo Ma cosa volete fare? Oh, Emma, non ti preoccupare Esatto, lascia fare a noi Ah, vado io alla porta Ok, Julian ha detto che è il mio compito Sì, sì, grazie Oh, oh, chi è stato, per favore? Salve, il mio nome è Anna Foglie Deve essere la babysitter Eh, cosa, babysitter? Sì, anche Marci, sono qui per un altro motivo Oh, aspetta, aspetta, aspetta Possiamo continuare? Ah, Julian, non lo so Devo davvero farlo Non c'è ancora fatto niente Piccola, ma dove sono i tuoi genitori? Io sono qui per tuo padre Oh, sì, so chi è Oh, deve essere la signora con cui ho telefonato Ah, papà, sì, sì Arriverà subito Aspetti proprio qui, eh Ok, ok, il poterio sta via Ah, cos'è questo? Quale puzza? Oh, oh, questa era il piano di Julian e Anna Oh, senape Oh, cos'è questo caos? Non volevo essere svegliato Oh, 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 cos'è, cos'è successo? Emma, sei stata tu? Oh, no, papà, non sono stata Io non sapevo niente Io devo solo aprire la porta e poi stare qui con questa signora Oh, no, missione compiuta Non tornerà mai più questa babysitter Oh, no Julian, sei serio? No, 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 papà ci ha scoperto Tadol, perché non c'è qui nessuno? Arrivata la babysitter Cosa? Babysitter? Ah, il nonno della babysitter Ma chi è allora lei? Oh, mi dispiace davvero tanto Sono i miei figli Sono un po' particolari Ma di sicuro lo puliamo solo se ne fe Ah, cosa sta succedendo? Io e papà vogliamo andare al cinema E mi sono appena addormentata Oh, dovrei fare finta di dormire Se c'è io ora sto dormendo Oh, oh Penso che anche dovrei farlo Nascondermi in camera Oh, no, sono guai Oh, c'ho un'altra babysitter Oh, allora vengo un'altra volta No, 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 no Stai pure qui Ah, questa non è la babysitter Oh, lei è una cugina Cosa? Oh, no, aspetta Oh, no, ne posso davvero più di questi parenti Anch'io non ne posso più, insomma Non ci capisco più niente Poi non sono stata io Insomma, ho fatto qualcosa anch'io Ma non lo sapevo Oh, no, Giulia Sì, sì, sì Me la pagheranno in castigo In castigo? Cosa devono fare? Un pigione? Oh, no, no, no Insomma, tu niente Ma, insomma, tu non hai fatto niente Ah, meno male, meno male Oh, oh Mi dispiace un po' per loro Insomma, 50 ore di meno Oh, sì Tu hai delle idee Io non lo comprerò mai questo Se lo puoi scordare Puoi essere contento Che non chiami la polizia Oh, malattica Sono super tante Insomma, se la racconta Poi domani saranno sul giornale Oh, non lo so Cosa c'entro io Volevo semplicemente vendere il mio Il mio tagliarba E cosa c'entro? Ah, Martin Siamo nei guai Non avete più bisogno di niente Detta che ci penserà Nello zio Oh, se ci penso No, no Allora, prego Possiamo andare al cinema Ah, insomma Anche papà Sempre ha fatto così Ma non l'ha mai fatto poi niente Insomma Quindi devono aver davvero combinato qualcosa Oh, oh Oh, no, no, no Voglio andare a vendere Julian e Anna Spero che non siano tristi Anna, stai Anna? Ma Anna non c'è? Dov'è? Julia Oh, che Julia Non c'è Ma dov'è il nonno? Oh, no Sono già andati in qualche prigione? Oh, e da dove arriva questa scala? Ma prima non c'era Andiamo a vedere un po' Oh, era davvero così la prigione per i bambini che ti immaginovi? No Però è peggio Ah, Julian può essere contento che noi siamo insieme nella stessa cella Penso se fossimo pure soli Oh, e non so se sia una cosa positiva o negativa Ma quella che mi dà fastidio a questo Non abbiamo nemmeno un vero letto Julian, Anna, vi ho trovato Cosa ci fate qui? Oh, no Meno male Portoci fuori Mh, vorrei volentieri Ma non so come C'è una chiave, qualcosa? Oh, non ho idea Nonna voleva tornare subito Voleva fare qualcosa con la musica Bene, bambini Avete voglia di musica? Sì No, no Una domanda Sei un po' strano Cos'è successo? Oh, sì, sì, sì Io sono il controllore Qua serve il lavoro Sì Ehm, 24 ore di musica Oh, no Quella musica, no Quella musica popolare degli anni 60, no Oh, ma sì Va bene Oh, oh, ti prego Posso avere un gelato? Grazie, nonno Cosa? Grazie per cosa? No, no, no Il gelato E con la senape Oh, no, no, no Per favore Mh, no, no Puoi andare tu a prendere il gelato Io voglio ancora quel minuto Ok, ma Eh, ma Per te Per me C'è un gelato buonissimo Dai, Giulia e Anna Veloci, veloci Uscite Non abbiamo tanto tempo E il nonno è occupato Mh, dai La Dad Posso arrivare A arrampicarmi? Oppure da lì Oh, ma È vero Aspetta Perché non ci abbiamo pensato prima È vero Forza, forza Usciamo Oh, ma Sei la migliore Meno male Che ho avuto un'idea così Oh, wow Qualcuno mi adora Bene Ora devo parlare un po' Con il nonno Mh, mh Nonno Mh, devo parlare un attimo con te Perché hai messo dentro Io l'anno in prigione Cosa ho messo in prigione? Oh, no, 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 no Sono qui, no? Mh, ma Come l'ho fatto a uscire lì? Eh, ma Aspetta Sono appena stati in castigo Ho detto che l'arresti messa in cella Oh, ma Sei di nuovo con una fantasia L'ha solo detto così il nonno Tutto il tempo che siamo qui a giocare Cosa? Allora Ma Aspetta Ma Avete anche detto che Che mi volete bene E che Che vi ho liberato Cosa? Non ho detto cosa? Sì, sì, certo Sì, sì, sì Come, no? Ah, una cosa Non tirla alla mamma Oh, questo gioco Non so come Mi riferisco a giocare Allora Ci prendo un bel gelato Va bene E noi Ci teniamo per noi Quello che hai detto Ok? Che potevamo giocare qui Pshh Che potevamo giocare qui